Forse sono andata a regalare un piccone e un'attività di ricompensa a tutti i giocatori Beh raga vi ricordate che qualche mese fa c'è stato l'evento riavvio un amico dove ci sono queste ricompense gratis Che appartenevamo alla skin della Naked Rider Se anche tu non mi ricevono 5 secondi per andare a lasciare un bel like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Quindi vai a lasciare un belissimo like in questo momento se hai anche 2 questa skin ora Beh raga le acquistano le ricompense che non mi sono esattamente questo Quindi dei picconi, un valetto e delle coperture Tutte queste raga le trovate in queste immagini dell'evento riavvio un amico E che si potrebbero ricevere a giorni C'è un regalo a codice codinggamer582 Quindi mi raccomando lasci un bel like e iscriviti se anche tu vuoi un regalo Mi raccomando raga per mettere il calcio di iscriviti c'è un xp clicci vi darà davvero tanto Mi raccomando dovete guardare in questo momento Like e iscrizione Ciao